Maggio come il mese che definirà il presente e orienterà il futuro. Ne sono convinti gli addetti ai lavori che gravitano intorno alla Fidelisandria. Ne è sicuro e lo ha ribadito ai microfoni di Telesveva in settimana anche l'amministratore delegato del club andriese Pietro Lamorte che si è assunto intanto la piena responsabilità del risultato sportivo coincidente con la retrocessione in serie D. La certezza è in una trattativa con l'advisor merger che ha presentato al club bianco-azzurro un imprenditore interessato alla causa e con radici negli Stati Uniti d'America. Il dialogo in corso da diverse settimane non ha ancora portato al closing e nei piani di la morte c'è una deadline non esplicitata per la definizione in positivo o in negativo della trattativa. Quella che è stata assegnata alla Fidelis è una valutazione definita importante e comporterebbe l'acquisizione sia dell'intera debitoria errariale che di quella riguardante gli ultimi stipendi. Non negano dalle stanze dei bottoni della società bianco-azzurra l'esistenza di trattative avviate quando la squadra era ancora in corsa per la salvezza ma che contemplavano anche la nefasta prospettiva della serie D. E non manca un piano B che passa per l'iscrizione al prossimo campionato di D attraverso il supporto di un territorio che ha dato già segnali di fiducia e che potrebbe supportare gli attuali soci nell'estinzione della debitoria. Quello di territorio è un concetto che include abbonati, pubblico, sponsor e istituzioni. Oggi tutti convocati per assicurare un futuro agonistico alla Fidelis con un patrimonio umano, quello di una tifoseria da serie B, per usare le parole dello stesso La Morte, da tutelare e preservare.